La presento François, è professore di lettere all'Erico Quarta. Le tre migliori dice in Francia. Penelope 5, ci si annoia troppo a leggerlo, lo sai? A Parigi i danni sono limitati, ma in periferia... Ci scaricano professori giovani totalmente inesperti e... Allora, al contrario, dovrebbero prendere i professori già esperti. Gatkoffman mi ha detto che vorrebbe trasferirsi in una scuola di periferia. Un piccolo consiglio con gli studenti fatti rispettare subito. Io sono François Foucault. Sì, Jean-Pierre Foucault, bella questa. Basta, spettetela! Perché fanno questo... Il chip? Vada a sedere al suo posto. Dov'è il libretto? Me lo porti, per favore. Non sono il suo cane. Che fa ora? Mi picchia? Si è visto subito che eri in cerca di guai. Ora vieni a farci lezioni morali e ci dici cosa fare e non fare. Sei due dombele guampassi e un'ora di punizione. Perché? Che ho fatto? Due ore. Non ho fatto niente. Quattro! E a te come va? A me? Perfetto, di male in peggio. One hundred day! È quella scuola, non ne posso più. È impossibile fare lezione. Accumulano brutti voti, umiliazioni. Dunque, si credono idioti. Tu non ti rendi proprio conto. Posso andare a pisciare? Sulla testa di mia madre, ho bisogno di pisciare. Faremo l'analisi grammaticale. Quanto rompe con la grammatica. Ho bisogno di pisciare dove? Sulla testa di mia madre. Facciai i compiti richiesti e tutto andrà bene. Mi scusi, professore. La prego di volermi scusare. No, sono io che mi scuso. Maria Stuarda è condannata a morte. Porto notizie. Re Francesco è morto. Vostra cugina Maria è tornata per governare la Scozia. È una donna da temere, maestà. Dunque, siete pronti a dichiarare guerra? Non così. Potrei comandare un esercito. Ma dite a mia cugina che prego per la pace. Spero di potervi incontrare di persona e risolvere i nostri destini. Dovete guardare in faccia la realtà. Lei rivendica il diritto al vostro trono. Dovrei deporre una sovrana mia pare. Sarà guerra civile in Scozia o lo sarà in Inghilterra? Una grave sciagura ha colpito la nostra terra. Una donna con una corona. Che dice suo fratello? Possiamo contare sulla sua lealtà. Nessuno vuole fare la guerra. E allora facciamo in modo che lo vogliano. Sono crudelli gli uomini. Il mio unico intento era unificare questa terra. Ma loro cercano di usurpare la mia corona. Un assassino. Un traditore. E una regina. Io sarò una donna diversa da lei. Metterò al mondo l'erede al trono di Scozia e d'Inghilterra. Siate la madrina di mio figlio. Siate mia sorella. Maria è nostra nemica. Noi non vogliamo doverci piegare a lei perché siamo fedeli a voi, maestà. Non puoi radunare un esercito. Molte volte mi hai detto che non potevo fare ciò che ho fatto. Non prestatevi al loro gioco. Avete un cuore più grande di quello degli uomini che vi consigliano. Siate più attenti a ciò che dite. Non accetto rimproveri da chi mi è inferiore. Io inferiore? Se uccidete me, uccidete vostra sorella e uccidete la vostra regina. Come siamo arrivati a questo? Ho un sassolino nella scarpa. C'è tutto il tempo, da? No, che non c'è tempo. L'opera, no? Non lo so. Che ne presta lei poi le pasticche per non piangere. Io voglio piangere. Non per fare una sviolinata, ma sei il babbo migliore del mondo. Tu sei più per me? Hai fatto un grande polavoro? Ti piace? Sì, sì. Ho capito. Io non vengo. Se c'è lui, io non vengo. Andiamo a trovare la mamma. Certo. Girati e sorridi un po'. Oggi vieni anche meglio. E tu sei fidanzata? Sono molto felice e single convinta. Il problema è tutto qui dentro. È dura. La vita è dura. Carissima regina, ma voi siete pazza. Donarmi un palazzo? Prodigalità sconsiderata, Mrs. Morley. Siamo in guerra. Abbiamo vinto? Non ancora. Dobbiamo continuare. Ah! Non era al corrette. La regina è una persona straordinaria. E ci stavano tutti, vero? E ho sentito chiaramente pronunciare la parola grassa. Grassa. E sgradevole. Solo io avrei osato e non l'ho fatto. Le tragedie la perseguitano. Mi abbandonano tutti. Oh, io no. Chiedo Venia per l'aspetto. Speravo di poter ottenere un incarico da voi. Uno qualunque. Un mostro che diverte i bambini, forse. È importante stringere nuove amicizie, corte. Non credo. Siete così bella. Smettila di prenderti gioco di me. Se fossi un uomo, abuserei di voi. Vedo che avete legato molto con Abigail. È una vipera. Siete gelosa. Dovete dirle di andarsene. Non voglio farlo. Spariamo a qualcosa. Oh, tira! Io sono dalla mia parte. Sempre. Il favore è un vento che cambia sempre direzione. All'improvviso ti ritroverai a letto con uno scenabanda di puttane. Sono capace di tutto e l'ho dimostrato. Se non te ne andrai, ti prenderò a calci. E non mi fermerò. Mia cara amica, che gioia vedervi tornare dall'inferno. Un giorno avrete la fortuna di visitarlo anche voi. E ti becchi 3 milioni l'anno. E le uniche cose per le quali sei pagato sono allenarti e giocare al pallone. Stai sempre sui giornali per le tue continue cazzate! Domenica, statene pure a casa. Perché non giochi. Che cosa insegna? Letteratura, filosofia e storia. Un esame a settimana. Se non passa, non gioca. Lei vuole che un calciatore studi per prendere la maturità. Mi pare una cazzata, eh? Dai. Non mi tocca mai. Si deve imparare a gestirla, questa rabbia. Tu non pensi abbastanza. Mi pare che manco te pensi troppo. È la prima volta che mi ripiace questo lavoro. Che mood? Che mood? Che mood? Che mood? Grazie per la visione